venerdì 15 maggio è stata recapitata alla segreteria del presidente della regione piemonte alberto cirio una bussa con all'interno della polvere bianca e la scritta antrace sul posto sono intervenuti i carabinieri i vigili del fuoco e gli artificieri il presidente del gruppo lega salvini piemonte alberto preioni ha espresso solidarietà al governatore e al suo staff condannando con fermezza un gesto del genere oltretutto in un momento così delicato e particolare e augurandosi che le indagini delle forze dell'ordine siano veloce risolutive andiamo avanti senza timore o remore ha affermato gesti di questo tipo oltre a non fermarci servono a dare ancora più forza al nostro lavoro grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti.